Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti alla 251esima serata di Lodi Liberale che da più di dieci anni cerca di organizzare con cadenza ormai settimanale conferenze e presentazioni di libri per dare il proprio contributo piccolo ma costante nella diffusione del pensiero liberale cercando di farlo sostanzialmente in due modi alternando serate su Zoom come questa, la serata in presenza e facendo più o meno tre cicli costanti ovvero il primo e il terzo lunedì del mese come questo presentiamo i classici del pensiero liberale, libertario o liberista, chiamatelo come volete perché crediamo che ripartire o partire per chi non li abbia già affrontati da anni dai classici sia il modo migliore per confrontarsi, approfondire e conoscere queste idee di libertà che sono quelle in cui credenzialmente crediamo tutti. Il secondo e quarto lunedì del mese come punto prossimo presentiamo libri di contemporanei che trattano argomenti di carattere filosofico, scientifico, storico, economico e quando invece il mese a cinque lunedì presentiamo libri su o di statisti liberali che sono stati pochi nella storia ma quelli che ci sono stati hanno avuto un impatto rilevante nel loro paese e nel mondo in generale. Abbiamo già dedicato serate alla Thatcher, Reagan, Cavur, Erhard, Minghetti e quanti altri. Perché abbiamo deciso di iniziare? Perché abbiamo deciso di continuare quest'opera di diffusione del pensiero liberale? Perché crediamo che sia troppo spesso caricaturizzato, spiegato male, strumentalizzato, utilizzato per fini non propriamente nobili invece crediamo che il pensiero liberale per quanto molto articolato e spesso diviso in scuole di pensiero che sono anche molto litigiosi tra di loro liberali, liberisti, libertari, anarcho-capitalisti, paleolibertari, mignarchici e quant'altro hanno comunque tutti in comune la passione e il culto in qualche modo della libertà e quindi da preservare, ampliare, recuperare e diffondere e far conoscere. In un paese come il nostro in cui il dibattito pubblico sicuramente non è caratterizzato dall'amore e dalla conoscenza della libertà, in cui il dibattito politico non è sicuramente un punto cardine delle varie forze politiche in campo, purtroppo temiamo anche che il dibattito accademico non è, non punula sicuramente di professori che si ispirano alle idee liberali, crediamo che questo compito del nostro piccolo sia importante. Viene svolto, abbiamo la fortuna nel corso di questi ultimi trent'anni di aver avuto case editrici come la Rubettino, la Liberi Libri, la stessa IBN Libri dell'Istituto Bruno Leone che hanno svolto un ruolo fondamentale nella diffusione di queste idee che sono certamente più diffuse, più note rispetto a trent'anni fa, ma ancora non, come dire, davvero determinanti nel dibattito pubblico. Che cosa facciamo questa sera? Questa sera presentiamo un testo di Gustave de Molinarie, un economista belga dell'Ottocento, amico e in qualche modo maestro di Alfredo Pareto con cui abbiamo chiuso l'anno solare 2023 presentando il libro di Pareto e i sistemi socialisti che è stato, come spiegato in questo testo e in altri poi faccio un breve riferimento, una sorta di liberista integrale, mi si consentirà di utilizzare questa espressione, e una sorta di protolibertario anteditteram, nel senso che era un liberista coerente, molto noto all'epoca, peraltro molto noto anche nel nostro paese proprio per i rapporti che aveva compareto, ma che poi è progressivamente scomparso dai radar della conoscenza anche accademica, anche italiana. Nel corso degli anni si sono, grazie a buona parte dei presenti, sono fatti molti sforzi per ricoperare il pensiero di Gustave de Molinarie, è stato tradotto qualche anno fa da me, le serate della Rius Saint-Lazare, persone liberi libri, la produzione della sicurezza era contenuta in questo testo che è appunto lo statalismo sempre della liberi libri che conteneva anche un altro testo di Bastia, e qui c'è lo zampino sempre di Nicola di Annello e di Candelottieri, e invece questa sera appunto presentiamo questo testo che è la Società del Futuro, che contiene anche una edizione del testo della produzione della sicurezza, tradotto da Alessandro Giuliano, che ringraziamo, che è il nostro giovane relatore di questa sera che si è imbarcato in quest'opera assolutamente importante, presso una casa editrice piccola, ma che appunto ha deciso di produrre nel corso degli anni poche gemme, tra cui di questa, a sapere altre edizioni. Insieme a noi ci sono due vecchi amici di Lodi Liberale che insomma frequentano le nostre serate fin dal lontano 2014, quindi direi molto tempo fa, e sono appunto Carlo Lottieri, professore di filosofia del diritto all'Università di Verona, e Nicola Iannello, giornalista e fellow dell'Istituto Bruno Leone. Il testo di Demolini, principalmente La Società del Futuro, credo che ci concentreremo principalmente su quella, ma poi vediamo nel corso della serata, è una sorta di tentativo di ricostruzione della nascita in qualche modo dello Stato, del governo e della spiegazione dei vari tipi di interazione umana che dalla pre-storia, dalle origini della società, spiegando appunto come la concorrenza è sempre esistita, ma si è trasformata nel corso del tempo, dalla concorrenza animale, dalla concorrenza distruttrice e guerresca, alla concorrenza produttiva, come fattore di crescita. E come dire, l'autore spiega banalmente che una teoria della nascita dello Stato che non è il classico contratto sociale, qualcosa di un raccordo tra persone, ma è semplicemente, come spesso la serie saggistica, la serie pensiero liberale ricorda, è una sorta di acquisizione del potere da parte dei più forti, dei più meritevoli o dei più furbi in qualche modo. E spiega anche nel testo, con un liberismo autentico, che non è necessario invece quando finalmente, grazie al progredire dei vari Stati, si arriva alla concorrenza produttiva, non è necessario che lo Stato regoli la produzione. Non è necessario, come pretendono i socialisti, che lo Stato o un alto potere simile si incarichi di regolare la produzione. Questa utile regolamentazione si opera già da sola con l'istersezione delle leggi naturali della concorrenza e del valore. Non bisogna opporre ostacoli alla loro operazione regolatrice e se queste incontrano degli ostacoli, bisogna lasciare che siano esse ad agire autonomamente per liberare la strada. Perché in altri termini si tratta di l'SFER. Tale il motore, tali sono le leggi che governano la giro umana, il motore dell'interesse, la legge dell'economizzazione delle leggi o leggi del minimo sforzo, la legge della concorrenza nelle sue diverse forme e la legge del valore. Secondo Gustavo de Molinari sono queste le leggi che hanno governato e governano tuttora lo stadio di evoluzione della società e dell'interazione tra gli uomini. Vedremo poi, ci aiuterà il professor Carlo Lottieri nel suo intervento a sottolineare anche, ci sono gli aspetti magari non negativi, non condivisibili di questa impostazione, ma è sicuramente un autore che crede nella libertà, crede nella libertà economica, condanna il protezionismo sempre e comunque in tutti i suoi testi, sia quelli che gli italiani conoscono nel test che abbiamo citato prima, sia quelli originali, insomma è un autore che crede fermamente nella libertà. Ed è arrivato al paradosso, piccolo inciso e poi lascio la parola ad Alessandro Giuliano, a ipotizzare primo nella storia una, appunto la produzione della sicurezza, una produzione privata della sicurezza, spiegando che banalmente se si crede nella concorrenza tra privati, nella fornitura privata di un bene, anche la sicurezza, quindi la protezione nei confronti degli aggressori reali o potenziali dell'estero può essere tranquillamente fatta da privati, in concorrenza tra loro, di agenzie che si possono, a cui si può in qualche modo abolare, mettiamola così. E questa è stata la fonte di ispirazione del primo capitolo di Potere Mercato di Rothbard, che ha cercato di articolarla ancora meglio, attualizzandola, e quindi è un tema che è assolutamente stimolante e assolutamente controverso, perché credo che sia una posizione, per chi ci crede fermamente, minoritaria e molto molto provocatoria. Però è interessante rifletterci perché, appunto, diciamo che può essere considerato un liberale che porta il ragionamento alle estreme conseguenze, c'è una sorta di liberale coerente e integrale. Quindi una figura molto importante per chi si richiama gli ideali di libertà, poco nota, ed è per quello che crediamo che questa serata sia importante per chi ci segue e sia utile e importante il lavoro che ha svolto Alessandro Giuliano nel tradurre questo testo. E gli cedo subito e volentieri la parola. A te, Alessandro. Appena riesci a smutarti, ti ascoltiamo con piacere. Eccoci. Eccoci. Allora, anzitutto grazie Lorenzo, grazie a Lodi Liberale per questa bellissima opportunità di stare qua con voi e presentare il libro a cui ho contribuito realizzare sia in qualità di traduttore e poi anche di curatore. Appunto, come già dicevi in fase introduttiva, De Molinari è un autore che ogni liberale, ogni persona che si definisca liberale o libertaria deve incontrare almeno una volta nel suo percorso di formazione intellettuale, proprio per via delle sue posizioni così innovative, così radicali e all'epoca anche considerate scomode anche all'interno del circolo dei liberali dell'epoca. Mi riferisco soprattutto al circolo di Bastiat e dei suoi discepoli, di cui comunque anche De Molinari ha fatto parte. In questo mio breve intervento cercherò di presentare i tratti salienti dei due testi che compongono il volume, anche se qualcosa hai già anticipato tu. Dirò ancora qualche parola sulla figura di De Molinari e poi un ultimo aspetto. Cercherò di spiegare perché, a mio avviso, si tratta di un autore che va riscoperto, sì, in primis per i liberali, ma poi anche da chi non si definisce propriamente un liberale. Beh, anzitutto mi piace partire da una citazione di un compianto professore di filosofia italiano che è Franco Volpi, il quale, quando ha presentato per la prima volta il pensiero di Gomez Davila al pubblico italiano, disse che il mondo della filosofia è circondato di queste pietre preziose sconosciute, di appunto autori sconosciuti che però, nonostante questo, per la loro caratura sono in grado di illuminare il cammino filosofico dei lettori. Ovviamente lui si riferiva soprattutto al panorama ispanico, con Davila che era colombiano, però possiamo estendere il discorso anche a De Molinari e al panorama francofono. Ecco, De Molinari è sicuramente una di queste pietre preziose. Appunto, è un economista belga e non francese, come si ritiene. Nasce a Liegi nel 1819, però poi è soprattutto in Francia che, diciamo, passa gran parte della sua vita ed è qui che scrive alcune delle sue opere più importanti. Appunto, lui è un, oltre che un filosofo, un economista, in primis un economista, un pubblicista e anche un giornalista. Infatti, la maggior parte dei suoi articoli viene pubblicata in questo Journal des Economistes francese, che è un, diciamo, una rivista molto importante ed è proprio in questo contesto culturale che conosce il liberalismo, conosce Frédéric Bastiat, che sarà il suo maestro, ma con cui poi ci saranno anche dei dissapori. Tra l'altro, in questo panorama culturale, a modo di conoscere anche nomi come Jean-Baptiste Cé, piuttosto che il suo amico Gouillot, che terrà sempre sul Journal des Economistes l'elogio funebre di De Molinari quando poi morirà. Ecco, tra l'altro, De Molinari vive una vita molto lunga, muore alla soglia dei cent'anni, nel 1912, quindi attraversa tutto quel secolo così tumultuoso che è il XIX secolo, e in questo volume abbiamo voluto raccogliere due testi che indicano due tappe diverse nel percorso filosofico di De Molinari, quindi il lettore si trova anche di fronte a due, diciamo, riflessioni, due tappe, diciamo, del pensiero di De Molinari, vedendo anche l'evoluzione dall'una all'altra, perché la produzione della sicurezza è un testo scritto alla fine del decennio del 1840, quindi quando è ancora un giovane pensatore, attorno ai 40-50 anni, e poi a 80 anni inoltrati, nel 1892, scrive La Società del Futuro, e ovviamente in questo lungo periodo sono successe delle cose, il suo pensiero è evoluto, e chiaramente di questa evoluzione troviamo il segno nel testo della Società del Futuro, con le differenze rispetto al pamphlet sulla sicurezza. Appunto, per quanto riguarda la produzione della sicurezza, è un testo che De Molinari scrive chiedendosi provocatoriamente, anche un po' in risposta agli altri liberali del circolo francese di Bastiat, ma se noi liberali siamo convinti, siamo concordi, che dobbiamo fare di tutto per limitare l'intervento dello Stato nella vita degli individui, soprattutto dal punto di vista economico, perché quando mostriamo la giustezza dell'eliminare i monopoli dello Stato nella produzione di certi beni, come possono essere gli alimenti, piuttosto che l'edilizia, le telecomunicazioni, in qualsiasi ambito produttivo in cui lo Stato vorrebbe avere il monopolio della produzione e della gestione di questi beni, perché siamo concordi nell'affermare che questi monopoli non dovrebbero esistere, ma poi non arriviamo a mettere in discussione anche quello che è il monopolio fondante del potere dello Stato moderno, cioè dello Stato e punto, perché appunto lo Stato è solo moderno, che è appunto il tema della produzione, della sicurezza, della difesa e di conseguenza anche della giustizia, che è quell'ambito poi della vita comunitaria in cui si va a condannare, ad assolvere coloro che hanno attentato alla sicurezza poi degli altri individui, degli altri cittadini. Ecco, nessun liberale all'epoca si era spinto a teorizzare l'eliminazione della presenza dello Stato anche in questi ambiti della vita comunitaria. E invece De Molinari dice che è assolutamente logico, è assolutamente possibile ipotizzare un mondo in cui, ad esempio, la difesa non sia più gestita e organizzata dai corpi di polizia statali, ma da corpi di polizia privati in concorrenza tra di loro, in modo tale che siano gli individui, i cittadini, quindi anche i consumatori, in qualità di consumatori, a scegliere quali forze di polizia privata rivolgersi per difendersi. E lo stesso vale poi anche per la giustizia, perché tra l'altro mi sembra che nella società del futuro De Molinari cita il passaggio di Adam Smith della Richiesta delle Nazioni, in cui dice che nel Medioevo, in Inghilterra, esistevano diverse forme di tribunali in concorrenza tra di loro, che ovviamente poi è una dimensione che è venuta meno con l'avvento dello Stato, e quindi perché non tornare a quella forma anche di concorrenza. E quindi, diciamo, queste provocazioni vengono inserite nel pamflet sulla produzione della sicurezza e questo, come dicevo prima, genera una serie di malumori all'interno del liberalismo francese, soprattutto con la figura di Bastiat, e tant'è che poi, a partire da questo momento, i rapporti tra De Molinari e Bastiat si logorano anche da un punto di vista personale, non solo sulle divergenze di idee, e non si ricuciranno mai più del tutto. Ecco, poi arrivano comunque gli anni successivi al testo sulla produzione della sicurezza, De Molinari continua a scrivere, soprattutto continua a scrivere sul giornal des Economistes altri testi, altri articoli molto interessanti, che anche essi purtroppo non sono ancora arrivati in italiano e sono disponibili soltanto in lingua originale, e poi appunto quando compie 80 anni, oltre gli 80 anni di età, arriva, quindi siamo alle soglie del ventesimo secolo, ad abbozzare quello che potrebbe essere un assetto futuro del mondo, sia in termini economici che in termini politici e potremmo dire anche geopolitici, e scrive appunto La società del futuro, l'altro testo che abbiamo presentato in questo volume. Quello che colpisce di questo testo sono due cose sostanzialmente. La prima è che De Molinari arriva un po' a sconfessare alcune delle posizioni, potremmo dire, proto-anarco-capitaliste della produzione della sicurezza, perché diciamo in questo caso fa un po' retromarcia sul tema della produzione privata della sicurezza e della giustizia, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, e quindi sembra essersi rimesso sulle posizioni di Bastiat, quindi come se avesse assunto un po' le critiche che Bastiat gli aveva mosso, tornando quindi più nella posizione di un liberale classico. L'altro aspetto interessante di questo testo è che colpisce la sua, potremmo dire, attualità, perché De Molinari arriva a pensare ad un assetto mondiale in cui gli stati e i governanti che ne sono a capo, arrivano in un certo qual modo a comprendere quanto sia poco profittevole uno stato di cose dominato da fattori quali nazionalismo, protezionismo, che danneggiano chiaramente la vita degli individui dal punto di vista economico e non solo, e quindi arrivino poi ad abbracciare anche una dimensione in cui si valorizzano i liberi scambi di merci pacifici tra gli stati stessi, e questo potrebbe poi portare ad un superamento del concetto stesso di Stato. Da questo punto di vista De Molinari in alcune pagine sembra addirittura profettizzare alcune dinamiche che oggi ritroviamo nell'organizzazione dell'Unione Europea. E quindi da questo punto di vista De Molinari è stato molto attuale, possiamo ritrovare anche nel mondo di oggi l'applicazione, l'attualizzazione di certe considerazioni che Molinari aveva posto praticamente 200 anni fa. E quindi sicuramente la società del futuro ha questo aspetto particolarmente interessante. E ovviamente De Molinari arriva a queste conclusioni organizzando una riflessione molto metodica, a differenza di quella della produzione della sicurezza, che più che altro è un pamflet. In questo caso abbiamo un testo diviso in due parti, in cui dapprima si critica la poca produttività di un sistema che lui chiama Stato di guerra, quindi quello che è lo Stato in cui la situazione degli Stati si fanno la guerra e adottano misure protezioniste e appunto danneggiano la propria economia. E poi invece arriva a tratteggiare, come dicevo prima, anche proponendo una serie di punti che ritroviamo al giorno d'oggi nell'Unione Europea, uno Stato di pace, la giustezza e la convenienza di uno Stato di pace. Questa è in modo molto così abbozzato lo schema dell'impalcatura della riflessione di demolinari. E qui poi mi sposto verso l'ultimo punto di questa presentazione su cui vorrei soffermarmi, ovvero perché leggere demolinari. Ovviamente per la storia del pensiero liberale costituisce una pietra miliare importante, lo abbiamo definito un proto-anarco-capitalista ed effettivamente lo è stato. Non è un anarco-capitalista consapevole, non inventa questo termine, non si definisce appunto tale. Sarà Rothbard poi a fare proprio questo termine, che tra l'altro fino a queste settimane, questi mesi è stato un termine anche un po' diciamo così sconosciuto all'opinione pubblica. Ed è stato Javier Milei nelle ultime settimane a portarlo un po' alla ribalta. Comunque il seme di questo pensiero nasce con demolinari. Quindi da un punto di vista storico della storia del pensiero liberale ha un suo valore. Ma poi ha anche un suo valore per quello che è la situazione che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Viviamo in un periodo geopoliticamente parlando molto tumultuoso, in cui si sta riaffacciando il potere di nuove forme di totalitarismo. Pensiamo alla Russia, pensiamo alla Cina, all'Iran, a quella polveriera che adesso è il Medio Oriente. E chiaramente di fronte anche alla debolezza del nostro mondo, della nostra parte del mondo, purtroppo certe forme di totalitarismo, di nazionalismo e poi da un punto di vista economico anche di protezionismo, se non addirittura di ricette socialiste, sembrano tornare fortemente alla ribalta. E quindi a questo scenario bisogna opporre una controcultura che è poi quella liberale, che proviene anche da testi come quello di demolinari, perché il mondo che delinea demolinari alla fine dell'Ottocento e che si augura di vedere realizzato è un mondo molto diverso da quello che avremmo nel caso dovessimo assistere in futuro a un dominio geopolitico della Cina piuttosto che della Russia. Quindi bene o male queste sono i punti che rendono demolinari attuale e che chiaramente ci hanno portato a presentare questo volume. Grazie Alessandro, si è percepito chiaramente la passione e l'interesse. Faccio anche i complimenti per la chiarezza espositiva del tuo intervento che ci ha fatto fare dei passi in avanti nella conoscenza di questo importante autore di un testo del 1899 in cui aveva ben chiaro alcuni concetti che ogni liberale oggi non dico che l'ha appescoltato ma quasi. Che cosa sono i governi? Sono imprese che offrono servizi di diverso tipo, cominciando dalla sicurezza, interna ed esterna. Coloro che stanno al vertice di tali imprese, i politici e lo Stato maggiore civile e militare hanno un interesse naturale ad espandere il loro potere, in virtù dei benefici morali e materiali che procura loro un tale ingrandimento. La loro tendenza è dunque quella di aumentare la loro sfera d'azione nella politica interna, usurpando il dominio delle altre imprese, e in politica esterna estendendo il loro dominio attraverso nuove ammissioni territoriali. Ed essi non devono neppure preoccuparsi del ritorno economico che possono puttare di loro servizio le loro conquiste perché sarà sempre la nazione a doversi sobbaccare i costi in un momento, in un paese, in un dibattito in cui ancora c'è la mitizzazione del governo che opera in qualche modo per il raggiungimento del mitico e non definibile oggettivamente bene comune. Un po' di sano realismo liberale credo che possa essere utile e De Molinari nel corso del testo è pieno di queste epibili. Facciamo un ulteriore passo in avanti insieme a Nicola Iannello che De Molinari l'ha frequentato, letto, curato e l'ha proposto molti anni fa e sono felice di riaverlo con noi a Lodi Liberale a discutere di questo autore. A lui caro. Nicola, a te. Grazie Lorenzo per l'invito, mi fa sempre piacere essere con voi e soprattutto in occasione con vecchi amici come Carlo Lottieri e nuovo come Alessandro. Tra l'altro tu ci hai definito vecchi amici, più che altro stiamo diventando degli amici vecchi, però siamo ancora qua e non credo che vi sbarasserete di noi tanto facilmente. De Molinari, un autore che ci è caro, forse perché è misconosciuto, più misconosciuto è più c'è caro. Qui c'è Carlo Lottieri che forse è stato il primo in Italia in epoca moderna, diciamo così, a riproporre De Molinari in quel libro di Liberi Libri che tu citavi all'inizio e quindi per fortuna per una volta parlo prima di Carlo Lottieri, se no quando parlo dopo lui ha già spazzolato tutto quello che c'era da dire di intelligente, a me rimangono le banalità. Vediamo se riesco a anticiparlo. Un autore misconosciuto, però è un autore che al di là di tutto ha lasciato probabilmente più di quanto si possa immaginare, rileggendo a distanza di tanto tempo, perché come tu sottolineavi prima tu l'hai tradotto, ma io l'ho introdotto le serate della Ruiz de Lazare, quindi per andare a rivedermi qualcosa me lo sono un po' spogliettiato, e devo dire che pur essendo sparito dal come nome, dal dibattito, se non per una nicchia di liberali interessati, i germi spiantati da De Molinari hanno fruttificato e cercherò in questa breve disposizione di vedere come e perché. De Molinari si inserisce nel liberalismo francese dell'Ottocento, che non è solo Tocqueville, che forse è il nome che viene più alla mente quando si parla del liberalismo francese dell'Ottocento, c'erano altri pensatori, economisti ma non solo, Benjamin Constant, che era svizio, qui francesi, francesi sono bravissimi, perché ci sono tantissimi scrittori belgi come Simenon, che vengono spacciati per francesi e scrivono in francese, quindi diciamo francesi per capirci, Constant era nato nell'attuale Svizzera, un altro economista importante, Jean-Baptiste Se, e Constant e Se erano praticamente, non voglio dire dei divulgatori, ma dei grandi ammiratori di Adam Smith, quindi il liberalismo francese è molto più collegato a un pensatore come Adam Smith più di quanto si pensi, qualche anno fa è stato pubblicato proprio il libro di Constant, il primo tabbozzo dei principi di politica, in cui c'è molto spazio ad Adam Smith, e poi Frederick Bastia, di cui ci siamo occupati già altre volte. Cosa sostengono questi pensatori? Sono dei liberali perché sostengono i diritti naturali, poi sulla coerenza o meno della naturalità dei diritti si può discutere, la proprietà privata, un governo che sia limitato o addirittura, come abbiamo visto nel caso di De Molinari, un governo che più che assente è privatizzato, perché non spariscono le funzioni del governo in De Molinari, vengono riassegnate in mano alla comunità, ai cittadini, agli individui e De Molinari è convinto che la concorrenza, così come opera bene nella produzione dei beni cosiddetti individuali, possa operare anche nella produzione dei beni cosiddetti collettivi, come appunto la sicurezza che De Molinari immagina possa essere gestito da compagnie assicuratrici, infatti compagnie di assicurazione, perché appunto la sicurezza poi alla fine non è che la tutela della integrità fisica e della integrità patrimoniale, che sono delle cose che vengono gestite normalmente anche dalle assicurazioni e anche qui poi si può vedere se lo scambio e la divisione del lavoro sono o meno degli strumenti efficaci nella produzione di questo servizio, che comunque in questo scritto, come diceva giustamente Alessandro, De Molinari torna a definire collettivo, ma collettivo demandandolo comunque alla comunità. Leggendo nelle pagine di questo esquisse, come si intitola in francese della società futura, si vede come De Molinari metta comunque al centro l'individuo, i bisogni dell'individuo e la capacità che ha la concorrenza, la concorrenza poi è il mercato. De Molinari usa anche la parola mercato, però all'epoca la parola che usavano soprattutto i liberali francesi era quella di concorrenza, dove si legge, qui non è certo un appunto al traduttore, è un appunto che è una nota che mi permetto di fare al lettore. Tutta questa grande insistenza che c'è sulla parola concorrenza andrebbe letta come concorrenza di mercato, sta parlando del libero mercato praticamente De Molinari e quindi lui vede l'efficacia della concorrenza anche a livello istituzionale e a livello politico. Un aspetto fondamentale che mi preme sottolineare è già stato accennato che in De Molinari c'è il pacifismo e il pacifismo di De Molinari non è qualcosa di accessorio o un orpello o un'aggiunta, no, De Molinari è liberale perché pacifista e pacifista perché è liberale. Il liberalismo è la pace e i liberali francesi coerenti dell'Ottocento erano ad esempio non solo contro il riarmo, erano contro il colonialismo, erano contro l'occupazione dell'Algeria, erano profondamente antimilitaristi e pacifisti perché pensavano che le armi non portassero progresso. Qui c'è anche molto positivismo nelle pagine di De Molinari. Rileggendole oggi mi sono un po' accorto di, poi adesso cercherò di dire qualcosa di quanto ci sia questo mito del progresso che forse è figlio del suo tempo, un tempo molto lungo, come giustamente ha detto Alessandro prima, praticamente attraversa un secolo. Io alla prefazione avevo delle serate di Richard Lazar, l'avevo intitolata Un secolo per la libertà, lunga vita e molte opere di Gustave De Molinari proprio perché nasce, se non sbaglio, nel 1819 e muore senza vedere lo scempio della prima guerra mondiale almeno. Lui che era pacifista e non è un caso che il primo premio Nobel per la pace venga assegnato a un discepolo di Gustave De Molinari, Frédéric Passy. Quindi il pacifismo è una componente essenziale del liberalismo, questo non lo dobbiamo mai dimenticare. C'è la denuncia quindi del militarismo e certo leggendo alcune pagine che sono appunto del 99, pensare che un quindicennio dopo sarebbe deflagrata la prima guerra mondiale con un disastro che i contemporanei non si immaginavano fa veramente pensare perché fa di De Molinari un pensatore messo ai margini proprio perché alla fine la realtà si è rivelata più peggiore di quanto potessero immaginare questi pensatori che lottavano per il disarmo e invece si sono trovati proprio perché i governi hanno seguito politiche totalmente opposte a quelle liberali, i governi hanno abbandonato le politiche liberali, il militarismo è la faccia diciamo così esterna dell'ingerenza dello Stato all'interno, il militarismo per De Molinari va a braccetto col protezionismo e con lo statalismo, questo allontanarsi dal cuore della posizione liberale porta alla catastrofe della prima guerra mondiale. Quindi De Molinari almeno nella sua lunghissima vita si è risparmiato questa tragedia. Un altro aspetto che mi ha fatto rileggendo De Molinari a distanza di tempo è di vederlo molto come l'anti Marx è un aspetto che mi ha molto colpito perché proprio nelle prime pagine De Molinari parte dall'uomo che deve produrre la propria esistenza detto in un linguaggio quasi marxiano. Ora mi pare che De Molinari non citi mai Marx nelle sue opere potrei sbagliarmi, parla diffusamente dei socialisti all'epoca soprattutto dopo il 48 si delinea in maniera netta questa battaglia culturale tra i liberali da una parte e i socialisti dall'altro in tutte le loro forme. Qual è la grande differenza, le grandi differenze rispetto a Marx che ci sono? La prima che balza agli occhi è che dopo poche pagine De Molinari introduce un personaggio che nelle opere di Marx non compare mai, il consumatore. In Marx c'è la centralità del produttore, cioè dell'operaio. Marx non parla mai dei consumatori, la sua è una teoria del valore lavoro dove il valore delle merci, cioè dei beni e dei servizi non è determinata dalla quantità di lavoro, lui vede solo il lavoratore. Per De Molinari quello che conta invece è il consumatore, colui che dà senso alla catena produttiva, se si producono cose che i consumatori non acquistano, tutta quella catena produttiva vale zero. Un concetto che sfugge completamente a Marx. In questo De Molinari non è un ingenuo perché vede il conflitto all'interno della società e tra le società organizzate in forme di governo. Però vede anche una cosa fondamentale, la centralità dello scambio. Lo scambio come gioco a somma positiva. Non è un caso che nelle pagine in cui De Molinari parla un po' positivisticamente dell'utilità della guerra. A un certo punto lo dice esplicitamente che la guerra cessa di essere utile quando cessa la somma zero nei rapporti tra le nazioni. È quando decolla lo sviluppo produttivo introdotto dal capitalismo che la guerra diventa inutile. Perché prima una nazione poteva arricchirsi solo e esclusivamente a spese di un'altra nazione. Un concetto che viene espresso anche da Voltaire nel suo dizionario filosofico, ce lo ricorda Mises, il discorso che fa Voltaire. Ma per sottolineare il positivismo di De Molinari, cito anche, oltre all'utilità della guerra, la schiavitù come passo in avanti nella civiltà, nello sviluppo della civiltà. Quando i conquistatori capiscono che è più utile a loro invece che uccidere il nemico vinto in battaglia, a soggettarlo allo sfruttamento economico, questo è un passo in avanti e come Carlo sa perfettamente questo è un luogo che troviamo in tutta questa sociologia che va da Gunplowicz a Oppenheimer e che ritroviamo anche in Bruno Leoni c'è un aspetto della schiavitù come scambio. Carlo si ricorderà che aveva suscitato lo scandalo di un filosofo politico che non aveva preso in troppa simpatia, Bruno Leoni. Prima dicevo, De Molinari è scomparso, ma è rimasto qualcosa di quello che ha seminato. Io arrivo a dire che, a farmi una domanda, e se tutta la public choice school non fosse che una nota a piedi pagina di De Molinari, perché anche leggendo questo libro si ha l'impressione di vedere come questo pensatore avesse già compreso, come bastià del resto, come funzionano veramente le democrazie rappresentative. Lui lo dice esplicitamente, c'è una bellissima, ci sono a pagina 63, ah, tra l'altro volevo fare, qui abbiamo il traduttore, non l'editore, però volevo fare complimenti al libro che è molto bello, si legge molto bene, molto maneggibile, poi devo cercare pagina 63 e questo fatto che abbiano messo le pagine in ordine numerico crescente è molto utile, il fatto che la pagina 63 sia tra la pagina 62 e la pagina 64, permette di trovare molto meglio le citazioni. Quando dice, De Molinari me lo sono perso, dice a un certo punto esplicitamente che all'interno dei paesi, delle comunità politiche organizzate, dei nostri giorni, i governanti e i governati hanno funzioni di utilità diverse. Innuce questo è già la public choice, cioè il fatto che oggi perché la guerra? La guerra è utile perché la classe politico-burocratica, militare, aumenta il proprio potere e questo quindi loro lo fanno per la loro utilità, ma contro l'utilità della nazione, come la chiama lui, perché poi in guerra ci vanno i cittadini, però i cittadini non riescono a far valere la loro voce contro l'interesse ben circoscritto ma molto organizzato di coloro che appunto beneficiano dalle spese militari e dall'accrescimento della potenza dello Stato. C'è proprio un punto in cui parla dell'interesse di breve termine dei partiti politici. L'orizzonte a pagina 69, questa volta la azzecco la citazione, mi ha molto colpito perché come io l'ho imparato da Carlo Lottieri, in Pareto c'è questa idea precisa degli interessi organizzati con un riflesso immediato che vincono all'interno delle democrazie rappresentative contro gli interessi difficilmente organizzabili e che producono benefici di lungo periodo. Qui dice proprio che i partiti politici hanno un interesse nel breve termine ingrandire il loro numero di adepti, ovvero ottenere la maggioranza elettorale, mentre dall'altra parte appunto la nazione non riesce a far valere, a organizzare il proprio interesse contro la guerra. E io questo aspetto del pensiero dei Molinari lo vedo come veramente la cosa più interessante che abbia seminato e da questo punto di vista vedo appunto la grande fecondità del pensiero di De Molinari. Un altro aspetto è quando parla del diritto di secessione, quando dice che in una società futura in cui la comunità internazionale, che poi è la comunità delle comunità più che degli stati, i confini diventeranno meno importanti e quindi verranno fuori le vere nazioni, sembrano quasi le nazioni per consenso di Rothbard, un altro aspetto che con Carlo abbiamo cercato di ragionare con Carlo un po' di anni fa. Quindi credo che questo sia un testo datato per alcune cose, per il lessico, il linguaggio, per alcuni concetti eccetera, ma che come tutti i testi interessanti riesce a dirci qualcosa ancora oggi, fa vedere che era un autore che aveva delle intuizioni che andavano al di là del loro tempo e credo appunto che questo aspetto della visione della politica come lotta tra interessi diversamente organizzati e quindi come una lotta impari sia da un punto di vista di quello che ci serve per interpretare le società in cui viviamo il lascito più fecondo di Molinari. Per ragioni professionali chiudo parlando di un aspetto che mi ha molto colpito, una pagina in cui, pagina 70, in cui tra i controlli che nella società odierna possono essere usati, può usare la comunità contro il potere organizzato dei governanti, parla della stampa. La stampa come il luogo dove si può criticare le politiche del governo. Poi però dice delle cose che ci fanno capire che alla fine ci vedeva a lungo. Dice a pagina 70, la stampa ha trovato, allora De Molinari dice la stampa potrebbe essere uno degli strumenti per controllare il governo ed impedirne l'espansione. La stampa ha trovato più vantaggioso mettersi al servizio degli interessi di classi o di partito piuttosto che dell'interesse generale e a farsi eco delle passioni del momento piuttosto che fare da megafono alla voce della ragione. Da nessuna parte essa ha agito per frenare la tendenza del governo ad aumentare la spesa pubblica. Ecco, questo diciamo che aveva già capito che la stampa, e questo come idea della stampa soprattutto italiana, aveva già capito dove poteva quello che Kant chiamava Carlo aiutami, l'espressione che usa Kant, il palladio delle coscienze, mi ricordo definiva l'opinione pubblica come il luogo che avrebbe potuto tenere a freno l'espansione del governo, si sia invece rivelato un'arma di lotta politica e quindi tutt'altro non è il cane da guardia del potere, ma è un'arma politica. Mi fermo qua. Grazie Nicola, questo intervento ci ha ricordato appunto un altro aspetto che oltre che essere una sorta di protolibertario antelittera mi è stato appunto un anticipatore dei concetti fondamentali della party choice. Era esattamente la citazione sui partiti politici che mi aveva appuntato e che sottolineo estesa, perché appunto Nicola l'ha sottolineata molto bene, anche qui troppo spesso vengono mitizzati i partiti come cosa che sono, peraltro strumento necessario per partecipare alle elezioni e quindi contribuire alla vita democratica tramite le vere elezioni eccetera. Ma come funzionano nella realtà i partiti e chi li gestiscono? I partiti politici in realtà altro non sono che milizi organizzate, finalizzate alla conquista del potere. Essi hanno un interesse nel breve termine, ingrandire il numero dei loro adepti, ovvero ottenere la maggioranza elettorale. I loro capi, per raggiungere tale finalità, permettono agli elettori più influenti una qualche partecipazione ai benefici della conquista, dei posti o qualche privilegio. Ma questi non potranno mantenere le suddette promesse, se non aumentando il raggio d'azione dello Stato, moltiplicando le attività di carattere militare ma anche pacifiche, in cui adesso arriva a mettere il becco. Credo che sia assolutamente emblematico nel capire come poi appunto ci sia questo meccanismo in azione per acquisire il consenso. Poi si promettono dei favori successivi che possano essere agevolazioni, detrazioni specifiche, nomine eccetera. Tutto questo appunto a spese del contribuente che, essendo, avendo un interesse molto più particolare, generale in qualche modo e diffuso, soccombe sempre a chi invece ha gli interessi concentrati e particolarmente evidenti e netti. E prima dicendo la parola a Carlo, e c'è una contraddizione, così magari lancio anche uno spunto, perché appunto nel testo La produzione della sicurezza invoca la possibilità dei Molinari di produrre la sicurezza tramite il mercato, tramite la concorrenza, tramite i privati, ma da un altro punto di vista auspica, in qualche modo prevede, una unione degli stati, in qualche modo un meccanismo sovranazionale, per produrre sicurezza, quindi per produrre dipesa. Quindi questa può sembrare una contraddizione, credo che possa essere un elemento di discussione che peraltro viene affrontato come al solito magistralmente dopo il suo lottiere. Quindi Carlo, a te, ti ascoltiamo volentieri. Grazie. Come diceva prima Nicola, è difficile intervenire dopo, perché chi ci ha preceduto ha già ampliamente presentato i temi più importanti, sia Alessandro che Nicola, ci hanno detto tante cose, Alessandro ha presentato quelle che sono appunto le questioni cruciali di questi due testi, raccolti in volume, cioè il piccolo saggetto sulla produzione della sicurezza, e questo saggio invece molto corposo, di mezzo secolo dopo, di 50 anni dopo, sulla società del futuro. Nicola ha poi messo molto bene in evidenza questo rapporto tra liberalismo di mercato e l'ideale della pace, ma anche come in Molina Ricci, in tutta una serie di premesse, e non solo, di analisi ben precise, per una, come si può dire, microfisica economica di quella che è la vita politica, ragione per cui piacerà molto a Pareto, e influenzerà appunto questo importante autore italiano, che come sappiamo era italofono, francofono al tempo stesso, e quindi un forte legame con quel mondo. Vorrei dire però una cosa innanzitutto, delle poche cose che sono rimaste credo da dire, che se noi siamo qui oggi a parlare di De Molinarie, e se abbiamo anche, come dire, l'occasione di legge in lingua italiana, questo testo del 1299, a mio parere è essenzialmente per i suoi scritti del 1849, cioè la produzione di sicurezza e l'undicesima sua re, appunto, del volume, le serate della Ruiz San Lazare, in cui appunto lui propone la privatizzazione concorrenziale dei servizi di sicurezza, difesa e giustizia. Perché? Perché certamente era stato un economista di rilievo nel suo tempo, quindi essenzialmente nell'Ottocento, ma poi era scomparso, era scomparso come la maggior parte degli economisti liberali dell'Ottocento. Vi racconto questo piccolo aneddoto che viene proprio da Henri Lepage in persona. Henri Lepage alla fine degli anni Settanta scrive un volume che si intitola domani il capitalismo, lo scrive in francese, ma poi viene scritto in inglese e quando viene invitato in America a presentarlo, un professore liberale, libertario americano che l'ha invitato lo porta nella sua biblioteca e gli fa vedere alcune opere di un autore, gli dice guarda questo tuo grande compatriota, queste opere erano opere di Frédéric Bastiat. Henri Lepage mi confessò che allora lui non conosceva Frédéric Bastiat, ma non sapeva nemmeno l'esistenza di Bastiat. E Henri Lepage era l'economista francese che cercava alla fine, appunto agli Settanti, negli anni Ottanti, di far rinascere la cultura liberale in Francia. Ad esempio è interessante sottolineare come quando Foucault in un suo corso parla appunto delle questioni liberali, spesso si appoggia appunto al libro di Lepage. Questo ci dice tanto, ci dice tanto perché ci dice della chiusura della cultura francese, del fatto che la cultura francese a un certo punto cancella proprio tutta una serie di propri autori e ci dice anche il fatto che Molineri arriva a noi esattamente per stessa ragione per cui Bastiat si è arrivato, perché gli americani a un certo punto hanno scoperto Bastiat, quel volumetto, soprattutto quello de l'O, la loi in francese, e Molineri. E quindi sono gli anni Settanta, appunto gli anni in cui emerge un dibattito sull'ipotete di una società anarchica e liberale a tempo stesso, che portano qualcuno a scoprire questi scritti del 1849 di Gustave de Molineri, che lui stesso peraltro a un certo punto abbandona le cui tesi, diciamo, a un certo punto abbandona. Quindi è quello, io credo, che oggi ci ha fatto riaccendere i riflettori su quest'autore, il quale va tenuto presente è stato essenzialmente un economista classico, molto legato appunto a Dan Smith, molto legato a Jean-Baptiste, anche a Riccardo e così via. Oltre a questi temi molto importanti, sottolineati da Nicola, cioè l'analisi economica della politica, che ovviamente sono temi molto originali, anticipano, ma anche in Bastiat e altri, anticipano una serie di sviluppi futuri, si è occupato naturalmente del grande tema dell'epoca, che era il protezionismo, basti pensare a Covid, in Bastiat e così via. Si è occupato moltissimo anche di una questione in parte bizzarra, ma curiore, ma interessante, cioè le borse del lavoro, cioè l'idea di un mercato dei lavoratori, quindi come logica alternativa rispetto a quello che stava emergendo, in un certo senso, che era l'idea di una sindacalizzazione invece dei lavoratori. I suoi testi sulle borse del lavoro sono molto originali, molto interessanti, ma rimane essenzialmente un economista classico, con tutte le virtù e tutti i limiti però di questo, cioè il suo esito anarchico, in qualche modo, come è stato già detto, in fondo la sua domanda è molto semplice, se noi da economisti, quindi economisti classici, riteniamo che la concorrenza sia meglio il monopolio, perché mai dovremmo accettare, secondo la formula di Weber, che naturalmente verrà dopo, l'idea di un soggetto che abbia il monopolio della forza legale in un dato territorio. Ecco, non tutto il liberalismo naturalmente ha quest'origine, e nemmeno tutti gli esiti anarchici e del liberalismo hanno quest'origine. Se prendiamo un autore, in parte con lui, ma dall'altra parte è l'Atlantico, cioè Toro, non vediamo che quando Toro scrive la disobbedenza civile, parte da una tesi geoffersoniana, il migliore è il governo e quello governa meno, e aggiunge, beh, allora il migliore di tutti è quello che non un governo ha fatto, ma il suo non è un argomento economico. In quel testo di Toro, che non è certamente un filosofo politico, che non è un pensatore politico, l'argomento centrale è la coscienza. Lui dice, io dovendo rispondere alla mia coscienza, non posso né finanziare, come dire, la schiavitù, meglio sarebbe dire né finanziare dei governi del nord che catturano gli schiavi fuggiti, li istituiscono agli Stati del Sud, né finanziare naturalmente la guerra al Messico. Ma se prendiamo anche un altro autore, parallelo in un certo senso a Molinarì, che si muove però sempre in questo confine tra liberalismo e anarchia, cioè Spooner, troviamo che il tema non è quello dell'analisi economica classica, ma invece sono i diritti. In Molinarì invece si arriva all'anarchia a partire dall'idea dell'efficienza, della concorrenza del mercato, che naturalmente sono associate alla libertà, ma la libertà in un certo senso è un elemento di questa struttura concettuale. Entro un quadro, l'ha detto bene Nicola, che spesso è positivista, ma perché? Perché l'economia classica era essenzialmente utilitarista. L'altro canto, già nelle serate della Rius en la Zara, lui introduce un dibattito tra un conservatore, un socialista e un economista. E se ci pensate, è una cosa un po' buffa, no? A me ha ricordato quello che a un certo punto dice Leoni, volendo ricordare la fallaccia detta dell'ignoranzia, elenchi, quando dice noi non possiamo dividere i giuristi in tre tipi in questo modo, i civilisti, i penalisti e i cattolici. Sono tre ordini diversi, uno può essere cattolico, il penalista, e così anche per quale motivo dovremmo dividere tra conservatori, socialisti e economisti. Ora, lo sappiamo, abbiamo letto Bastia, sappiamo che nell'epoca spesso il termine economista stava a indicare liberale, liberale, economista classico, perché allora essenzialmente tutti gli economisti erano liberali. Però c'è anche questa idea appunto di una fiducia estrema nella scienza che può preludere, poi come diceva anche Nicola Prima, parlando di positivismo, conduce a un certo scientismo che caratterizza appunto una serie di pagine di Molineri, perché va benissimo a difesa della razionalità, ci mancherebbe, contro ogni forma di scetticismo radicale, di relativismo, però abbiamo in Molineri un'idea molto naturalistica della società e dell'economia. In questo senso, se paragoniamo questi due autori importanti dell'economia francese di metà ottocento, cioè Bastia e Molineri, e in Bastiai è chiaro che troviamo certamente un economista classico, ma anche troviamo il difensore di una visione locchiana del diritto, basata sui diritti naturali inviolabili e quindi su un certo geosnaturalismo, mentre in Molineri le cose sono molto diverse. La visione non è tanto basata su Locke quanto su Smith, è una visione appunto utilitarista. A me piace dire in definitiva che così come a un certo punto in Molière, nel Borghese Gentiluomo, il borghese quando insegnano che vuole imparare un po' la letteratura e la linguistica, cioè gli spiegano che si può scrivere in prosa e in poesia, scopre che lui normalmente parlava in prosa. Gli economisti quando si incontrano con un filosofo morale scoprono di essere subutilitaristi. Cosa intendo di? Intendo dire che l'utilitarismo è la modalità normale di default, di ragionare, di riflettere, di agire di un economista. Il problema è che l'economia classica non solo è caratterizzata dall'utilitarismo, con tutti i problemi che questo può comportare, non posso naturalmente entrare nel dettaglio, di cosa comporti una premessa utilitaristica, ma anche l'economia classica di quel periodo comporta, lo si vede bene negli scritti di Molinarie, un'ipoteca sull'idea di valore che è molto particolare. In Molinarie noi abbiamo, come in Marx, tra l'altro, un'adesione molto forte all'idea del valore lavoro. Questo nasce da, in certi aspetti, un pasticcio intellettuale, perché da un lato lui evoca Locke, giustamente, quindi l'idea di un'occupazione originaria legata al lavoro, ma poi fa derivare appunto il valore direttamente dal lavoro. E questo perfino in un testo che è del 1899, cioè sostanzialmente, tre decenni dopo, i Grundsetse di Karl Menger. Allora, è pazzesco questo? No, non è pazzesco, perché se Henri de Pagy, alla fine degli anni 70, non conosceva Bastian, non dobbiamo stupirci se De Molinarie, alla fine del secolo, non conosceva Karl Menger, perché Karl Menger era assolutamente sconosciuto in Francia. I libri non erano tradotti, gli articoli non tradotti, non c'era praticamente. Gli austriaci non arrivarono. Gli austriaci, che ci sono oggi, gli economisti austriaci, i francesi, lo spiegano tante volte come per un lunghissimo periodo l'economia francese è rimasta del tutto impermeabile di fronte a questo. Allora troviamo appunto un liberalismo particolare in Molinarie, perché da un lato trascura la questione cruciale, l'occhiana, geffersoniana, ma che c'è anche in Bastia, c'è dei diritti naturali inviolabili. Quindi l'idea che il diritto si basa sul rispetto assoluto che dobbiamo all'altro. Dall'altro ignora il soggettivismo austriaco e ignorando l'oggettivismo dei diritti naturali e la soggettività delle preferenze, di fatto però si priva di due delle principali armi che l'argomentazione liberale ha di fronte al potere, cioè l'idea che tu non puoi agire contro il me perché ho diritti inviolabili. Due, non esiste un interesse che sia condiviso nel momento in cui le preferenze sono appunto soggettive, quindi un interesse generale, grande tesi appunto a scuola austriaca, non è né immaginabile né definibile. Quindi in questo senso Molinarie arriva al libertarismo sviluppando tutta una serie di temi cruciali, la parziale concorrenza che ci sono nell'economia classico, ma poi non sorprendentemente finisce per accettare il monopolio di Stato, sulla base anche di una serie di ragionamenti utilitaristi, di marco positivisti. E c'è di peggio perché a mio parere non soltanto lui già nel 1849 non coglie le esigenze dei governi locali quando a un certo punto dice ma insomma uno sminuzzamento territoriale dei governi potrebbe portare a un'infittirsi delle dogane e quindi a logiche protezionistiche che bloccherebbero l'economia, gli scambi eccetera. Ma addirittura 50 anni dopo lui arriva appunto a teorizzare questa gestione collettiva della sicurezza delle nazioni. Cioè l'idea che noi a questo punto possiamo sì superare lo Stato ma un po' la Kersen attraverso una sorta di unificazione giuridico-politica che in questa maniera quindi ci tuteli dallo Stato ma senza appunto riflettere seriamente su quale può essere il destino delle libertà degli individui e così via all'interno di un mondo che rischia di essere unificato. Quando noi parliamo di cito gestione collettiva della sicurezza delle nazioni e quindi di un'unificazione del problema della sicurezza noi andiamo per certi aspetti nella direzione esattamente opposta rispetto a quella che lui indicava nel 1849. Quindi è un autore ricco, pieno di questioni interessanti, certamente molto figlio di una certa cultura e anche io, rispetto a dire su questo, figlio anche di tutta una serie di limiti che la cultura francese dell'Ottocento, come dire, ha avuto e una certa chiusura anche da un certo punto poi della cultura francese e la cultura francese appunto. Va bene, mi scuso per aver rubato da poco tempo e grazie per la vostra attenzione. Anzi, esattamente il contrario, proprio perché la passione nei confronti dei mondiali avendolo anche appunto presentato, proposto per la prima volta al pubblico italiano, credo che sia emersa nessamente dall'intervento del professor Dottieri. Non conoscevo l'episodio di Rene Page ma credo che sia sicuramente benematico, perché appunto Bastiat, quando vediamo per scontato è un maestro, un mito per chi si definisce liberale e chi è un individuo francese come Rene Page cioè, si dava per scontato come fosse. Questo non l'avevo mai sentito, quindi quando prego se... Forse fa una battuta. Certo. Pensa che Bach è stato scoperto da Mendelssohn, che Vivaldi solo nel novecento, cioè queste sono cose che caratterizzano la storia di tutti gli ambiti della cultura. C'è una questione che scompargono e poi incompargono. Noi poi, vivendo in certa fase, pensiamo che siamo sempre stati lì, ma non è così purtroppo. Abbiamo la fortuna, peraltro, di averlo sepolto a Roma, Bastiat, tra le altre cose. E anche, come è stato toccato anche un altro aspetto, nel frattempo chiedo a Colodi promuovere al relatore Paolo Luca Bernardini, che vuole intervenire. Io ci ho collegato al telefono, ma insomma ha sottolineato anche l'aver combattuto perennemente, coerentemente, successantemente il protezionismo. Perché? Perché nel caso del protezionismo lo Stato interviene passando i prodotti provenienti da paesi in cui il mercato è meno regolamentato, per proteggere il produttore della propria nazione, permettendo di alzare i prezzi dei propri prodotti, fino a toccare la percentuale della tassa imposta sui beni stranieri. In questo caso il peso dell'imposta grava sui consumatori, in quanto essi si vedono diminuito il loro potere d'appisto, sia esso quello del salario o del capitale investito. Solo i governanti e gli imprenditori da questi protetti possono trovare benefici nelle politiche protezioniste, nelle vici che compensano il fatto che i loro potenziali consumatori si trovano ridimensionati del proprio potere d'acquisto. Dunque, tutte quelle persone che vivono di un lavoro non tutelato allo stesso modo, devono sottoimportare un doppio fardello, quello dell'imposta e quello dell'esistenza stessa del protezionismo. Troppo spesso ci dimentichiamo di questo aspetto per cui appunto il protezionismo danneggia praticamente chiunque, danni appunto i protetti, eccetera. Siccome è ancora ottimo, uno dice che il protezionismo dovrebbe essere, anzi è probabilmente l'unico argomento su cui gli economisti di varie scuole sono d'accordo nel sottolinearli nella grannosità e quindi dovrebbe essere qualcosa che è superato. Invece purtroppo lo vediamo riemergere anche i politici americani. Trump su alcuni aspetti lo aveva invocato come fondamentale per la protezione dei lavoratori, non capendo appunto il doppio fardello, quindi contribuenti e consumatori. Paolo, se attivi l'audio e video, sei promosso a relatore, quindi hai la possibilità di intervenire, se riesci dal telefono. Se no, nel frattempo, Nicolò, chiedo anche di promuovere un'altra persona che vuole intervenire che è Stefano Magni, così almeno ascoltiamo entrambi i nostri amici che tendenzialmente sono collegati. Nel frattempo introduco semplicemente, in attesa che uno dei due riesca a collegarsi, Stefano Magno e Paolo Bernadini, nostro amico Roberto Bolzani che ha fatto questa domanda un po' così alciata che cos'è, è la panarchia, ma insomma, in attesa di ascoltare magari interventi Bernardini, eccoci Stefano, ormai sei una presenza fissa e ne siamo particolarmente felici. A te Stefano. Parto io quindi prima di Bernardini. Prego. Dunque, no, premesso che è difficile fare una domanda su un argomento così composito dove si parte dall'anarchia e dalla concorrenza delle risorse di violenza fino ad arrivare ad un ordine internazionale. Ecco, la domanda fondamentale è proprio direi quella sulla possibilità di gestire le risorse di violenza in concorrenza e di conseguenza anche l'amministrazione della giustizia in concorrenza. Questa è una cosa appunto, è una ipotesi che è stata battuta prima da Molinari, poi è stata chiaramente più sviluppata da Murray Rothbard nel secolo successivo, però ecco, mi rimane sempre un dubbio, un po' un dilemma anche filosofico, non tanto se sia realizzabile o meno, perché non possiamo prevedere che cosa sia obiettivamente realizzabile. Ma quanto possa essere oggettiva poi una giustizia amministrata da tribunali in concorrenza tra loro? E mi spiego, finché noi abbiamo un arbitro terzo che amministra la giustizia in occasione di un conflitto tra due parti, è un arbitro terzo che con difficoltà ma con una certa possibilità di raggiungere un verdetto oggettivo può dichiarare una persona colpevole o innocente. Nel caso invece in cui le risorse di violenza e la giustizia siano affidate alle due parti, mi risulta difficile capire come si possa arrivare ad un giudizio oggettivo che possa stabilire chi è colpevole o chi è innocente, proprio perché le due parti tenderanno, nella maggior parte dei casi, come fanno le assicurazioni, ad arrivare ad una sorta di compromesso e questo non è già una forma di giustizia oggettiva ma è un po' un accettare una parte di ingiustizia, assolvendo in parte chi è colpevole e accusando in parte, colpevolizzando e condannando in parte chi invece è innocente. Nella peggiore delle ipotesi ha uno scontro tra le due parti che può essere anche la circostanza più rara ma a questo punto essendo private sia le risorse della violenza sia l'amministrazione della giustizia diventa possibile. A questo dilemma come risponde Molinarì e come risponderebbe tra l'altro Carlo Lottieri che è il primo anarcho-capitalista che ho conosciuto in Italia? Secondo, il primo è stato Piombini. Grazie Stefano, allora intanto che c'è collegato anche Paolo, magari ascoltiamo anche lui poi facciamo un giro di risposte. Io sto utilizzando questo device per la prima volta. Ti ascoltiamo e ti vediamo nitidamente. Benissimo, allora intanto saluto tutti gli amici, faccio i complimenti al dottor Giuliano per questa impresa di traduzione e farò solo una breve osservazione da storico. Abbiamo trattato sull'aspetto della storia delle dottrine politiche ed economiche. Secondo me occorre anche un pochino sfumare su quello che è la personalità e l'epoca di Molinarì. Cioè lui è un belga fondamentalmente che vede giovanissimo la nascita del belgio indipendente ed è anche scioccato dal fatto che questo piccolo stato che gli sarebbe potuto anche piacere poi in realtà crea un vero e proprio impero e quindi in qualche modo è il suo ultimo scritto. Ricordiamoci che nel 1899 è anche una risposta all'aspetto degenerativo del paese comunque in cui è nato, anche se nasce nella Liegi della Vallogna, non ancora belga, ma muore in Belgio ed è una risposta anche che testimonia di una tragedia del liberalismo ottocentesco, che è un liberalismo come è stato messo in luce dai relatori fondamentalmente di carattere pacifistico. Ebbene il pacifismo che poi si trasmette anche ai primi decenni del Novecento, io adesso ho appena scritto un libro su Menius che era un sodale di Förster, quindi siamo negli anni Trenta del Novecento che era un pacifista federalista, ebbene è una tragedia tremenda perché abbiamo un pacifismo di sinistra, un grosso pacifismo liberale e abbiamo poi la tragedia di due guerre, per fortuna come è stato detto Molinarì non vede la prima perché muore quasi centenario nel 1912. Ma c'è tutto da analizzare secondo me un liberalismo pacifista veramente che ha un significato attuale molto forte in questo periodo di guerre che avvengono in tutto il mondo con potenziale devastante proprio per l'intervento degli stati diretto e indiretto. È una tragedia perché è una tragedia in cui c'è veramente un fiorire di pacifismo liberale alla fine dell'Ottocento che vede e che poi naufra completamente in quelle che saranno le distruzioni della prima metà del Novecento. Quindi io direi che è interessante, poi questo faccio più che una domanda, è un'osservazione, un'aggiunta a quello che è stato brillantemente detto dai miei amici vecchi o vecchi amici e anche del dottor Giuliano che è una new entry in questo mondo e faccio veramente complimenti ancora. C'è veramente una tragedia ma anche una presenza pervasiva di Molinarì. Io recensendo un libro di una giovane studiosa di Padova, la Francesca Bianco, che ha studiato le riviste su cui scriveva Ippolito Nievo all'alba delle unità d'Italia, quindi negli anni 50, la presenza di Bastia, ma anche di Molinarì è pervasiva e costantissima. C'è veramente una presenza che poi arriva anche alla fine dell'Ottocento. Io oggi tra un impegno amministrativo e l'altro qui all'Insuglia mi sono letto qualcosa sulla presenza di Molinarì nell'Ottocento italiano. Ad esempio c'è un economista molto interessante, Edoardo Giretti, che è un economista e anche un piccolo industriale serico torinese che è un grande propugnatore delle idee di Molinarì nel giornale degli economisti italiani, scrive, commenta, recensisce il libro del 1899. Anche lui da un punto di vista pacifistico che è fondamentale, solo la pace garantisce il libero commercio, garantisce ed esalta le potenzialità dell'individuo. Quindi ancora complimenti per questa presentazione, la mia non era una domanda, ma di Molinarì presenta soprattutto in questi tempi di guerra per la sua pervasiva attenzione alla pace e per la sua attenzione anche alle secessioni, alla creazione di piccoli stati. Lui immaginava probabilmente che il Belgio sarebbe andato diversamente rispetto a come andò a partire dal 1830, cioè da quando lui aveva 11 anni, che però ne vede la nascita. Era una tragedia del liberalismo tutto centenco, però ci dice che anche il liberalismo nell'Ottocento era molto vivo. Questo libro esce un anno dalla morte prima che muoia Francesco Ferrara, che muore nel 1900, anche lui dopo una vita lunghissima. Quindi essere liberali garantisce di solito una lunga vita, questo lo auspico a tutti noi e questa era solo la mia unica osservazione che volevo fare, una serie di piccole osservazioni. E non hai assolutamente notato il gesto scaramatico con gli occhi, sicuramente solo con gli occhi di Nicola Giannello, ma questo? Ma Nicola Giannello, essendo di un anno più giovane di me, ha una vita molto più lunga quanto meno di un anno. Due gesti scaravantici. Comunque l'importanza, ecco, secondo me va ancora indagata. E l'ultima cosa che dico, poi si è detto come Carlo, Nicola ha detto anche il dottor Giuliano, di questa assenza di Molinarì. Poi in realtà a Auburn in Alabama, se non ricordo male, esisteva un centro, un think tank dedicato a Molinarì, non so se fosse in concorrenza col Mises Institute, una parte del Mises Institute, e c'è anche, c'è ancora, credo, un'assistituto di economia Molinarì che è in Belgio. Però, secondo me, al di là delle idee, io lo dico da storico, più che storico delle dottrine politiche, al di là delle idee che sono state sviscerate molto bene questa sera, c'è da vedere anche l'analisi particolare del personaggio come un belga che vive a Parigi, ma ha sempre comunque del cuore il destino della sua piccola patria. C'è anche un'idea forte di piccola patria che, secondo me, è poi, anche perché lui è contrario all'impresa algerina, poi gli tocca vedere l'impresa congolese di Leopoldo II, che veramente è un esempio di privatizzazione dello Stato tremenda, perché poi Leopoldo II deve essere proprietario ufficiale della colonia del Congo, dove sono state compiute delle immense atrocità che colpirono molto Molinarì. Quindi credo, da storico, non da storico delle dottrine politiche, che sia ancora moltissimo da sviscerare su questa personalità, proprio nelle sue relazioni personali, affettive, con la sua piccola patria, poi abbandonato ovviamente per fare carriera, come la maggior parte degli intellettuali del Belgio hanno sempre fatto per cercare fortuna, dove la fortuna veniva offerta, perché c'erano giornali, c'erano accademie e così via, cioè in Francia. Grazie. Grazie Paolo, e credo di non spoilerare nulla di particolare, ma credo che fra poco uscirà una sorta di raccolta sul pacifismo liberale, secondo me di Annello ha qualche ruolo anche all'interno, ma lo possiamo forse sproporre. Bellissima cosa, non vedo nulla di lezione. Credo che sia utile, se possibile, un giro di risposte, a partire dalla domanda di Stefano Magni e poi anche magari sulla riflessione di Paolo Bernardini. Alessandro, se vuoi cominciare tu sulla risposta alla domanda di Stefano Magni. Sì, beh, allora, anzitutto volevo chiarire per Paolo Bernardini che esiste da poco un circolo Molinari anche in Spagna, quindi anche in Spagna adesso pare che questo nome possa iniziare ad essere tradotto. Non so se in Spagna hanno già fatto delle traduzioni, già proposto delle traduzioni di Molinari, però intanto è nato il circolo, quindi gli auguriamo di tradurre anche a loro questo autore. Allora, per quanto riguarda la domanda di Stefano Magni è molto interessante ed effettivamente apre, a mio avviso, una problematica non indifferente. Diciamo che, proprio mentre poi stava articolando la domanda, sono andato a riprendere nel testo di Molinari proprio nella società del futuro, e vi dico anche la pagina se volete averla sotto mano, pagina 120-121, la nota a piedi pagina di Molinari che è appunto quella in cui cita, come dicevo prima, Adam Smith, in cui appunto Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni, nel libro quinto, parla proprio dell'esistenza di una sorta di, possiamo dire, competenza, competizione tra tribunali e, diciamo, né, diciamo, tesse le lodi di questa, di questa sorta di, di competizione. Se permettete, leggo brevemente la, la citazione, perché mi sembra molto, molto interessante, se posso, Lorenzo, velocemente. Ok. Le parcelle sostiene Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni, libro quinto, capitolo uno, parte due, erano in origine la principale fonte di sostentamento dei vari tribunali in Inghilterra. Ogni tribunale cercava quindi di tirare a sé quanto più lavoro possibile, anche se questa implicava iniziare a dedicarsi a questioni di materie che non dovevano ricadere sotto la propria giurisdizione. Il tribunale di King's Bench, che si dedicava unicamente a tenere processi per affari criminali, ha così iniziato ad occuparsi anche di affari civili, un terreno che non era di sua competenza, al punto che spesso i querelanti sostenevano che i loro difensori non erano stati capaci di rendergli giustizia e si erano anche resi colpevoli di qualche violazione o malversazione. La Corte dell'Esquerre, credo spero di pronunciare giusto, istituita per occuparsi delle questioni fiscali di quegli evasori che dovevano soldi allo Stato e al suo re, ha iniziato ad occuparsi anche di altri problemi di debiti, finendo berati di lavoro. Il risultato fu che molti querelanti che si erano rivolti a questo tribunale arrivavano ad affermare l'unicamente che se avessero aspettato a ricevere l'esito positivo della loro sentenza e il risarcimento che aspettava loro non avrebbero poi potuto pagare le imposte al re presso lo stesso tribunale. Alla fine si giunse una situazione in cui i soggetti potevano scegliere presso quale tribunale farsi giudicare e ognuno di essi si sforzava a dimostrarsi efficiente, imparziale e dirigente per portare sempre più clienti a rivolgersi a sé. La mirevole struttura dei tribunali inglesi al giorno d'oggi deve la sua efficienza al fatto di avere ripreso in gran parte quell'assetto originario che spronava a tutti i vari giudici da applicare sentenze rapidi ed efficienti per ogni sorta di ingiustizia. Ecco, ho voluto leggere questa nota di pagina, che tra l'altro credo sia una delle più lunghe nel testo di Demolinari, proprio perché personalmente il quesito che ha proposto Stefano Magni mi sembra molto denso e sinceramente non saprei come dirimerlo da solo, però secondo me in questa citazione, in questo passaggio di Demolinari in cui riprende Adam Smith ci dice che una sorta di proposta, di risposta potremmo trovarla andando ad attingere a quella che è proprio la storia dei tribunali inglesi e di questa sorta di competizione che si era generata prima dell'avvento poi dello Stato moderno. Ecco, spero di aver dato magari una pista di riflessione nel mio piccolo. Grazie Alessandro. Nicola, come si scioglie il dubbio introdotto da Stefano Magni sulla giustizia privata in concorrenza tra loro al netto della funghezza dell'esito dei processi che è stata citata già probabilmente all'epoca, figuriamoci oggi. Non ti ascoltiamo, mi sa che sei ancora mutato, quindi dovresti attivare l'audio se non ti riusciamo ad ascoltare. Eccomi direttore, no? Non vuole fornire certo ricette per l'osteria dell'avvenire, come diceva quel tale, ma cerca di vedere come un mondo meno statalista, diciamo. Allora lui è convinto che ci sia tra la politica interna, la politica esterna, cioè la politica internazionale e ci sia una relazione stretta. Stati con molto potere all'interno eserciteranno anche molta violenza all'esterno e il contrario. Da dove nasce questo? Lui lo diceva Carlo prima, c'è molto positivismo nella concezione di De Molinari, però da questo punto di vista ci fa anche ricordare che De Molinari è un realista a suo modo, cioè non è un irenista che pensa che l'umanità attingerà una dimensione pacifica per un miglioramento morale. No, lui ne fa una questione politica, di organizzazione politica. Lui vede un riflesso tra quello che lo Stato fa fuori dai confini e quello che lo Stato fa all'interno dei consigli. Quanto poi al modo, al fatto che lui vada verso questa comunità internazionale, questa associazione che lui prefigura, è una specie di ONU seria, diciamo così, lui ha in mente un ONU che funzioni, cioè un ONU che intervenga militarmente perché la forza messa in comune dalla comunità degli stati sarà capace di dissuadere i singoli stati dall'intraprendere la guerra come soluzione dei conflitti internazionali. Questo perché l'abbandono del militarismo e l'accesso a una politica liberale farà diminuire l'importanza degli eserciti e della forza e quindi gli Stati avranno eserciti sempre meno potenti e quindi la comunità internazionale potrà organizzare una forza armata comune che dissuaderà gli Stati dall'usare la forza. C'è una componente di ingenuità, diciamo che in questo c'è il limite del positivismo di Demolinari, cioè di vedere il mondo, il commercio sostituirà le armi. Non è andata così, non è sempre così, è vero che se andasse così questo sarebbe vero, ma purtroppo non va sempre così, nel senso che è verissimo che se si commercia non si fa la guerra, però il fatto che si commerci comunque non evita il fatto che si faccia anche la guerra e il mondo in cui viviamo lo dimostra, è chiaro, un liberale a un certo punto potrebbe anche dire oh ma se voi non siete liberali e continuate a fare la guerra a un certo punto sono più a fare i vostri che miei. Purtroppo non si può dire perché poi la guerra degli altri spesso diventa anche qualcosa che ci coinvolge. Però io vedo anche un aspetto tra virgolette coraggioso di Demolinari che in quell'epoca si fa promotore di idee che appunto varranno a un suo adepto il primo premio Nobel per la PAC. Grazie Nicola, Carlo, a te. A domandare esplicitamente. È una domanda naturalmente complicata, io però inviterei Stefano che saluto, piacere che sia qua con noi stasera, a evitare di cadere in quella che qualche economista chiama la fallaccia del Nirvana. Mi spiego, facciamo ad esempio molto semplici. Se affrontiamo qualunque questione di economia politica, che non sono un'azienda che fallisce e così via, è ovvio che una soluzione liberale non è mai una soluzione perfetta e non sarà mai in grado di far fronte a un racconto che ci presenta un mondo perfetto. Questo è il primo punto. Dobbiamo partire dalla situazione imperfetta in cui ci troviamo, cioè abbiamo da che fare con uomini che hanno qualche volta atteggiamenti aggressivi, non sempre sono disposti a cooperare, così via. Detto questo, quello che tu dici sulla mediazione è una questione su cui i giuristi riflettano da tanto tempo, quali sono i limiti della negoziazione, della conciliazione, però non dobbiamo dire, perché certamente lì c'è al centro l'interesse e non al centro la giustizia, ma se la mediazione ha avuto e continua a avere enorme successo in tante società occidentali, è perché comunque risponde a delle logiche ben precise. Quando sono in gioco, più gli interessi con i principi, le persone ritengono interessanti a orientarsi verso logiche di mediazione che trascurano, diciamo così, da quello che sarebbe l'ideale di una giustizia assoluta, dove invece quando c'è un gioco dei principi fondamentali, nessuno naturalmente è disposto a mediazione. Quindi la mediazione, lo scontro, lo scontro finché noi avremo dei soggetti potenzialmente aggressivi che disporranno di un minimo di risorse della forza, l'ipotesi dello scontro è sempre lì e non possiamo immaginare, ecco appunto perché ti dicevo attenzione a evitare la fallaccia del nirvana, un mondo in cui lo scontro venga meno. In altri termini, noi sappiamo che la monopolizzazione della violenza in alto territorio non ci ha portato nel nirvana, non ci ha portato in un mondo perfetto. Noi dobbiamo chiedere a questo punto se la dispersione dei poteri, perché è di questo che parla essenzialmente una proposta una capitalista, sia ceteris paribus, cioè fatti uguali a tutti gli altri elementi, c'è la cultura, attitudini eccetera, preferibile alla concentrazione del potere nelle mani di una persona o di poche persone. È tutto questo. Non abbiamo né da una parte né dall'altra l'universo giuridico perfetto che deve essere il criterio di giudizio concreto a cui guardare costantemente per giudicare gli assetti umani. Ma di fronte alla questione del potere dobbiamo chiederci, ed è questa la sfida della capitalista, è bene che si abbia una concentrazione del potere in mano agli uomini di Stato, o addirittura, perché la logica dello Stato è una logica molto imperfetta, OBS immagina un'anarchia internazionale, è bene che si abbia un unico soggetto che controlla la forza a livello globale, sull'intera umanità, oppure non è meglio avere appunto una, con tutte le imperfezioni che questo può avere, una dispersione dei poteri che naturalmente non preluderà se la cultura è di un certo tipo, se l'attitudine è un certo tipo, se non prevale, come diceva prima Nicola, quell'atteggiamento alla cooperazione, allo scambio, al commercio eccetera, se queste cose non prevarranno avremo comunque tensioni, guerre e giustizie. Ma in che misura rispetto a una situazione in cui invece tutto il potere fosse concentrato appunto nelle mani di unico soggetto? Insomma io un pochino di queste cose le avevo trattate in un saggio, se vuoi andare a vedere, poi ne discuteremo, che si intitola, si trova online, libertarismo non è un'utopia. Cioè la società senza Stato, la società in cui il potere è restituito ognuno di noi, non è necessariamente una società di diritto. Ma la domanda è, è una premessa maggiore per avere un soggetto di diritto che ognuno di noi si rappropri della propria forza legittima, oppure è bene che ci rinunci, che abdichi, che accetti la propria condizione servile e accetti la concentrazione del potere nelle mani appunto degli uomini di Stato sulla base appunto di questa promessa di uno Stato nirvana che sarebbe Stato di diritto, che è equanime, che non è in alcun modo catturabile dal regolatore, da questo o quell'interesse eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il punto. E' ovvio che la società senza Stato non è di per sé la società nato capitalista basata sui diritti naturali inviolabili. Ma io credo che una società senza Stato, che una società quindi vuol dire di dispersione dei poteri, è una premessa molto più ragionabile per liberali. In fondo, se prendete i testi di Leoni, che prima un po' ricordava anche Nicola, sul potere, perché Leoni si è occupato dello scambio dei beni servizi, lo scambio delle pretese, ma poi anche dello scambio dei poteri. Un po' questo ci dice Leoni. Guardate che se noi accettiamo lo Stato come situazione e come situazione in cui ognuno di noi ha del potere, come la situazione reale, fondamentale perché è sempre così, ma una situazione che va anche riconosciuta, enfatizzata e valorizzata, è più facile che ci s'avvicini a un ordine in cui i diritti sono rispettati, in cui c'è maggiore libertà e così via. Ovviamente garanzie non ce ne sono, ma garanzie non ce ne sono da nessuna parte. Questa è un po' la considerazione finale che mi sento di fare. Grazie. È sempre che il prezzo della libertà e l'eterna vigilanza, anche in cui anche in questo campo. Abbiamo un ultimo intervento dall'esterno che è Roberto Bolzan, che se vuoi Nicolò può muoverlo a relatore, possiamo ascoltare la sua riflessione che ci aveva messo in chat. Eccoti Roberto, eccoti qua. Ah bene, che bello sfondo. L'abbiamo fatto a Bologna l'altro giorno. A Fuera. A te, benvenuto. L'abbiamo chiamato Viva la Libertà. Cazzo. che è il slogan in cui è diventato presidente dell'Argentina e mi ha sembrato simpatica come modo di farlo. Saluto le persone che sono qui con noi, che stasera hanno promosso questa bellissima riflessione. Mi meraviglio del fatto che parlando di Molinerino si parla di panarchia, che è un concetto, è diventato più noto, promosso dal botanico Emile de Pouyde, Paul Emile de Pouyde, ma fu inventato da Molineri. La riflessione di Molineri è semplice. secoli dopo la pace di Westfalia, persone di religioni diverse convivono senza ammazzarsi fra di loro. Perché non possono convivere persone che obbediscono a governi diversi? Cioè perché in uno stesso territorio non possono convivere governi diversi oltre che religioni diverse? E questo secondo me è attualissimo come tema e mi stupisce che oggi non sia stato nominato. C'è nelle riflessioni che sono state fatte, ma manca questo nome che è la panarchia che invece lo contrassegna. Grazie Roberto. Se c'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda, non so. Carlo puoi provare a rispondere tu una riflessione e poi ringraziamo Roberto per essere intervenuto. No, direi nessun tipo di… diciamo che questa tua provocazione per il momento rimane sospesa. Ecco, quindi grazie Roberto intanto di essere intervenuto. Volevo fare… Può essere un tema, scusami, poi… Assolutamente. Un tema per una… per dedicarci una serata. Ogni desiderio dei nostri soci è quasi un ordine. Grazie Roberto, ci pensiamo sicuramente. Allora, intanto la classica domanda per chiudere che facciamo, che faccio sempre quando si tratta di un classico, ovvero perché un ragazzo, un giovane, nel caso di Alessandro, un suo coetaneo, una sua coetanea, dovrebbe leggere questo testo di De Molinari oggi, che è un testo appunto di oltre 120 anni fa, 125 anni fa, e quale altro testo suggerireste di leggere appunto di Gustave De Molinari? Nell'ordine in cui siamo partiti, quindi Alessandro, Nicola e Carlo. Perché leggerlo? È cosa di ulteriore. Anche perché peraltro non l'abbiamo ricordato, ma nelle note, nelle appendici ci sono anche alcuni articoli di De Molinari, oltre appunto al testo che abbiamo discusso di un saggio penitenso. Alessandro, a te. Sì, allora, come dicevo prima nel mio intervento, sicuramente oltre al fatto che un classico, già soltanto per il suo valore storico, merita di essere riscoperto, io credo che ci sia anche una fortissima attualità nel pensiero di De Molinari e sia necessario riprenderlo nel momento in cui quello che vediamo anche nello scenario geopolitico a cui facevo riferimento è un futuro in cui è purtroppo possibile che emergano in modo sempre più importante poteri totalitari e anche dichiaratamente socialisti, come quello cinese soprattutto, ma poi anche in maniera diversa quello russo. E quindi chiaramente quando queste realtà politiche espandono il proprio potere, inevitabilmente espandono anche i propri valori. E chiaramente i valori di questi stati totalitari sono valori ben lontani dai principi del liberalismo, tanto da un punto di vista economico quanto da un punto di vista filosofico. E quindi chiaramente l'unica arma che possiamo nel nostro piccolo noi individui opporre è quello della cultura. E quindi riscoprire degli autori che insistono sull'importanza delle libertà individuali da un punto di vista filosofico e al contempo l'importanza della non ingerenza dello Stato nella vita economica è evidentemente fondamentale. Poi vabbè, io nelle pagine introduttive del testo, un po' ironicamente, dico che anche nel nostro Occidente, anche in Italia, ci sono evidentemente dei principi che cozzano con quelli che sono gli ideali liberali, come il fatto che esistono alcune categorie di imprenditori artigiani che devono il 70% di quanto guadagnano allo Stato per le tasse. Chiaramente questo non è un principio liberale. Però è evidente che in questo momento le principali minacce ai principi del liberalismo arrivino da quella parte del mondo, da questi regimi e il modo migliore per opporsi, appunto come dicevo, è leggere e leggere questi autori. Nicola, perché leggerlo da parte di un giovane o una persona in generale e cosa legge un terreno? Perché leggerebbe cose che non leggerebbe altrove e alla fine quello che è importante trovare nei testi che si leggono è trovare cose che sono originali. Da questo punto di vista nel dibattito odierno un libro come questo di Demolinari suona quasi inedito e quindi probabilmente un giovane che si sta formando le proprie convinzioni nelle scienze sociali, in politica, in economia e in sociologia, leggendo Demolinari magari avrebbe qualche dubbio su quello che pensava fosse l'unanime consenso dei pensatori, degli scienziati sociali e gli verrebbe in mente forse di fare qualche riflessione originale. Siccome abbiamo esaltato la concorrenza, allora io propongo questo libro di Demolinari, non so perché, qui siamo tre contro uno, l'hai tradotto te, cioè la mia prefazione, la postfazione di Carlo Lottieri, quindi più completo di così, le serate di Rius e Lazare non potrebbe essere, quindi il mio suggerimento di lettura. Tra l'altro dico una cosa, un po' di vanità, è una prefazione che ho scritto con grande anche partecipazione proprio per la vicenda umana e intellettuale di Demolinari, quindi mi fa piacere ricordarlo anche per quello. E sono passati ben 15 anni nel 2009. E questo lasciamo. Carlo, a te stesse due domande? Sì, non ho molto da aggiungere quella tua Nicola, è un punto di vista diverso che è del tutto dal di fuori dagli schemi entro i quali ci troviamo a ragionare, si può anche discutere, ho cercato di avanzare delle obiezioni su un certo tipo di economicismo, per cui tutto sarebbe da ricondurre l'interesse, così che però è indubbiamente un'apertura anche verso altri autori, verso altri orizzonti, è una sfida all'esistente. E come dicevo prima, perché è un testo che trovai molto interessante, un libro da leggere, non è tradotto in italiano, ma comunque il francese per me in italiano non è difficilissimo, è quel libro Le Bourse di Travai. Perché è una contestazione in fondo, un'alternativa estrema a tutto il diritto del lavoro, per come lo concepiamo noi, al fatto che noi viviamo in un sistema in cui i rapporti lavorativi all'interno delle aziende o fuori delle aziende sono ultra regolamentati, reggimentati, come se fosse una sorta di esercito, come se noi fossimo una sorta di esercito, che poi era d'altro canto l'obiettivo dell'Unione Sovietica, l'idea appunto di un lavoro obbligatorio che fu realizzato, di un lavoro appunto assicurato a tutti, eccetera. Ecco, lì è proprio il contrario, l'idea di portare appunto il lavoro nella logica della borsa, del mercato, della concorrenza, della speculazione. Un testo interessante, un testo appunto che naturalmente dimostra anche come tra i due radicalismi che a metà ottocento emergono, quello socialista e quello liberale, quello socialista che si impone e si impone non solo nella sua versione compiuta, in Sovietica, in Cina, a Cuba e via dicendo, ma si impone soprattutto in Occidente, nella sua versione moderata, per cui siamo tutti ormai all'interno di logiche socialiste e ahimè sempre più indirizzati verso una prospettiva piuttosto orwelliana. Non dimentichiamoci che George Orwell ambienta il suo romanzo più importante, a Londra non ambienta appunto a Mosca o a Pechino e credo che anche da questo punto di vista la mossa sia stata geniale. Abbiamo perso una grande occasione in quella sfida di metà ottocento tra i due radicalismi, appunto ha vinto quello che confidava nello Stato, nella monopolizzazione del potere, nella centralizzazione e ha perso invece quello che confidava di più nella capacità degli uomini di cooperare. Grazie, io aggiungo tra i consigli di lettura un volume collettaneo curato da Nicola di Annello, una società senza Stato dell'Istituto Bruno Leoni, che credo che possa essere un altro elemento per chi è interessato a questi temi. Prima di salutare vi invito alla nostra prossima serata dove torneremo finalmente in presenza e cambieremo completamente argomento, presenteremo il libro di Daniele, come vedete in sovraimpressione tra virgolette, Daniele Capezzone, il libro si chiama E basta con sto fascismo, cari compagni ci avete rotto, puntini puntini, lo faremo insieme all'autore, a Giovanni Sallusti e a Lorenzo Rinaldi che è il direttore del quotidiano locale, quindi credo che sia importante tornare in presenza e incontrare i nostri soci, persone che possono essere interessate a Lodi Liberale nelle nostre serate. Chiudetemi consentendomi, visto che siamo a inizio anno, di invitare tutti quelli che sono interessati, ci seguono, ci apprezzano a rinnovare o a iscriversi a Lodi Liberale, perché per scelta Lodi Liberale non accetta contributi pubblici, ne richiede e quindi senza l'aiuto concreto dei nostri soci non riusciremo a mantenere il nostro ritmo, soprattutto quando organizziamo le serate in presenza. Ringraziamo e ringrazio Can Lottieri che vedo che è collegato ma non vedo più in video, per essere con noi e per aver svolto e continuato a svolgere la sua opera meritoria indefessa nella diffusione degli ideali libertari e liberali in generale, tanto quanto Nicola Iannello, che anche lui da tanti anni svolge questo compito, e al nostro giovane Alessandro Giuliano, a cui auguriamo veramente ogni bene dal punto di vista accademico, visto che credo che sia la carriera che vorrei provare a intraprendere, e di diffusione delle idee, perché stasera ha dimostrato di averne introdettate bene e soprattutto spiegate bene, e non è una dote comune soprattutto alla tua età. Grazie mille. Grazie, grazie davvero a tutti e buonanotte.